E' quella che consente di arrivare alla base del posto di 80 metri. Il signore che fanno tre ore, vanno fino a questa capitale, poi scelgono e se volessero con la stessa zona. E' questa roccia uguale, no? E' questa cosa, perché quando la qua esce, siccome il giudice delle espressioni, questa stagocina riesce a andare via. Questa è la stagione, questa è la stagione di un'altra cosa. Grazie.